I podcast di LCN Sport. È il giorno di Lecco Sant'Aggio, nel giorno della prima uscita della Calcio Lecco 1912 nella stagione 2022-2023. È il giorno di un Lecco incompleto che ci mostrerà per la prima volta quanto ha preso in questi dieci giorni di lavoro circa. Agli ordini di mister Alessio Tacchinardi dopo il rinvio dell'amichevole che originariamente era stata prevista per mercoledì 20 luglio contro l'Atalanta, poi annullata in favore di altre decisioni per quanto riguarda i blu celesti un amichevole in famiglia, per quanto riguarda la dea di un amichevole in famiglia e poi proprio nella giornata odierna di un amichevole sul campo di Sesto San Giovanni contro i cugini comaschi. È il giorno di, dicevamo, un Lecco incompleto che deve completare assolutamente tante parti dello scacchiere a disposizione del tecnico di scuola Atalanta. Zambattaro, Rossi e Mignanelli per completare la fascia sinistra sono tre opzioni e Rossi nello specifico è già in prova da ormai una settimana abbondante. Poi ci sono altri reparti da sistemare, l'attacco ad esempio dove Simone Andraganza rimane un'opzione, dove Alessandro Marotta al di là di quelli che sono stati i ferri corti ormai a cui sono sottoposti il patron Paolo Leonardo Di Nunno e il consulente di mercato, nonché ex patron, nonché figura molto incombrante Daniele Bizzozzero portano comunque il nome di Alessandro Marotta dalle parti di Cormano con una richiesta di ingaggio a 5-0 che però il patron non si sente di escludere sin dal primo momento. Voci di giovani anche di Malinverne e Bia che prendono di nuovo la strada della Serie D, ovvero Varese e la Luparense dell'ex mister Mauro Zironelli, mai veramente apprezzato quanto avrebbe meritato dalle parti del resegone. Voci di giovani anche per quanto riguarda Mattia Tordini, operato al piede sinistro dopo la rifrattura e quindi se ne riparlerà per novembre. Voci anche di cessione del pacchetto societario parziale soprattutto con un'azienda lecchese attiva nel settore edile interessata a subentrare almeno con un 50% in quella che è l'attuale maggioranza totale detenuta dal patron Paolo Leonardo Di Nunno. Strada è già andata avanti in maniera significativa ben oltre i semplici contatti informali come fatto trapelare da Palazzo Bovara. Se saranno rose e fioriranno lo vedremo ma le premesse ci sono tutte.